Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il lutto è il sentimento di intenso dolore che si prova per la perdita, in genere, di una persona cara. Il costrutto teorico di lutto presenta rilievi di notevole rilevanza, sia in ambito psicologico sia antropologico. Nelle culture occidentali viene solitamente associato al colore nero. La giovane cantante ha perso la vita in seguito ad un incidente aereo. L'artista aveva solo 26 anni. Stiamo parlando, ovviamente, di Mariglia Mendonca, stella della musica brasiliana. Era molto popolare nel suo paese Mariglia. Aveva creato ben 15 dischi di diamante e due di platino. Tanti suoi connazionali famosi hanno voluto dare un ultimo addio speciale, da Danimar a Bolsonaro. La 26enne lascia purtroppo anche un bimbo molto piccolo. Avuto appena un anno fa la cantante era molto amata. Era una giovane esponente del genere sertaneio, molto vicino. Come genere, al country statunitense le sue canzoni erano molto ascoltate in Brasile. La sua morte violenta ha lasciato il vuoto nei cuori di tutti. La ragazza ha perso la vita in seguito allo schianto di un aerotaxi nello stato del Minas Gerais. Nell'incidente Mariglia non è stata l'unica a morire. Sono purtroppo deceduti anche il suo produttore, lo zio, e i due piloti dell'aereo. La causa dell'incidente, secondo gli inquirentei, potrebbe essere la fatale collisione con un'antenna.